Giorgio Ma tu risparmi? Cosa usi per risparmiare? Dai, dici il tuo segreto Giorgio, 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 Giorgio Ah, ok, ok, ve lo dico Ma prima di dirvelo è bene specificare che il risparmio non è l'antica arte di essere tirchi Quando parliamo di risparmio infatti parliamo di gestire al meglio il proprio patrimonio Piccolissimo patrimonio se sei uno youtuber Dicevo, risparmiare è tanto utile quanto difficile Soprattutto se non si sa nulla di risparmio In quanto comporta una serie di buone abitudini Ad esempio, essere consapevoli delle proprie spese Decidere quanto e quando una parte dei propri soldi dedicarla al risparmio Come fare delle scelte finanziarie sostenibili Sapersi orientare tra gli innumerevoli prodotti finanziari Oppure ancora essere consapevoli che risparmiare non significa fare una vita da remita Anzi, il risparmio migliora la vostra vita Volete un esempio? Questa bestiolina qui con tutti i suoi attrezzi Sono riuscito a comprarmeli grazie al risparmio E mi hanno migliorato di molto la mia vita Ah, basta con tutte queste belle parole Sì, basta Puta e rospo, maiale Quale strumento usi per risparmiare? Ok, ok, calma Io per risparmiare uso l'app Guinea 5 Che sarebbe un salvadanaio digitale ma con gli steroidi È utile, comoda, intelligente ed ha un sacco di feature Ma come vi dicevo, il problema di risparmiare non è tanto lo strumento Ma è l'approccio e l'educazione finanziaria verso il risparmio Proprio per questo mi sono lasciato aiutare dai ragazzi di Gimme 5 Per darvi qualche consiglio riguardo proprio l'educazione finanziaria e l'educazione al risparmio E te pareva una marchettata Sì Infatti ho anche un codice sconto e cioè Economi 5 Che vi permetterà durante l'iscrizione di ottenere un bonus di 5 euro Ovviamente oltre a questo mi potrete sostenere nel mio progetto di divulgazione economica Eh? Ma la cosa figa è che i ragazzi di Gimme 5 sposano una filosofia che condivido molto E cioè che il miglior risparmiatore è il risparmiatore consapevole Infatti all'interno dell'applicazione c'è tutta una sezione dedicata all'educazione finanziaria Molto ben fatta E quindi quando mi hanno chiesto di parlare della loro app che apprezzo molto Beh ho pensato che fosse una buona idea coinvolgerli direttamente In modo da divulgare tematiche sull'educazione finanziaria E introdurre l'antica tradizione e arte del risparmio Ma innanzitutto spieghiamo meglio cos'è Gimme 5 E in questo senso ci aiuta Jacopo Massey Business development di Gimme 5 Gimme 5 è il salvadonaio digitale Che permette di investire anche a partire da 5 euro È un prodotto che punta molto su quello che è il risparmio E sull'educazione finanziaria Di fatto è un servizio che permette a chiunque di approcciarsi A quello che è il mondo dell'investimento e del risparmio Che normalmente è stato sempre un po' visto precluso Come una barriera economica e culturale In realtà noi grazie a questo servizio permettiamo a chiunque di cominciare Anche a partire da 5 euro E crearsi dei propri obiettivi di investimento e risparmio Seguendo un percorso che ne abbiamo creato all'interno dell'applicazione Per aiutare chiunque ad arrivare ai propri traguardi L'idea è quella proprio di democratizzare il risparmio Quindi di Gimme 5 nasce proprio con la funzione Di prendere le persone e aiutarle proprio nel risparmio E farle scoprire pian piano quello che è l'investimento E renderle più consapevoli Ecco qui c'è un concetto che mi piace molto e mi interessa Cioè la democratizzazione del risparmio Infatti uno dei vantaggi di Gimme 5 Come dice la parola stessa E' proprio quello di poter iniziare a risparmiare Già da 5 euro Che è una situazione ideale magari per dei ragazzi Che hanno appena iniziato a studiare all'università E che sono tendenzialmente squattrinati come lo ero anch'io Anche se non è migliorata molto la mia situazione finanziaria Però insomma la cosa è molto utile E un sacco di voi mi hanno scritto Eh ma come si fa ad iniziare se abbiamo poche disponibilità Beh Dimmi 5 può essere un'ottima risposta E ci tengono così tanto al tema del risparmio E all'educazione finanziaria Che sentite cosa ci dice Jacopo Che bisogna cominciare Cioè in qualche modo bisogna cominciare Puoi cominciare con Gimme 5 Puoi cominciare con un piano d'accumulo Fatto con una banca Puoi cominciare a fare con un piano d'accumulo Fatto dalle assicurazioni Quello che importa è cominciare Cioè anche un po' il messaggio della nostra missione È quello di far sì che le persone capiscano Che prima partono e meglio è per loro Perché comunque diciamo Fra le due cose più stressanti per le persone C'è la salute e il denaro E quindi se uno già comincia Poi dopo si toglie una parte di quello stress E potenzialmente diciamo ne beneficia sicuro Tempo è una delle cose che gioca in maniera importante Uno perché se hai tanto tempo davanti Hai la possibilità di costruirti per tanto tempo Un tuo bel patrimonio Che poi dipende dalle tue entrate ovviamente Quindi Gimme 5 è praticamente un salvadanaio digitale Ma vi faccio una domanda Il vostro salvadanaio Il vostro porcellino pieno di monete fisiche È in grado anche di investire nei mercati finanziari? Perché Gimme 5 ci riesce Infatti durante il vostro primo risparmio su Gimme 5 Dovrete decidere anche dove investire i vostri soldi In base ovviamente alle esigenze Ci sono strumenti finanziari più rischiosi Meno rischiosi Italiani, americani Da tutto il mondo Insomma ogni strumento è dedicato a una determinata esigenza della persona Così l'app non solo ti fa risparmiare Ma ti fa anche guadagnare Ehi ehi ho visto dei rendimenti lì Ma quelli sono al netto dell'inflazione? Jacopo? Quando si investe soprattutto i fondi comuni di investimento Investono sull'economia reale E quindi su quello che viene prodotto Saltuarialmente dalle nostre aziende domestiche o internazionali E quindi diciamo l'inflazione c'è sempre Ovviamente è già paragonata all'investimento che stiamo facendo in queste realtà Quindi non è che bisogna togliere da quella percentuale lì di guadagno L'inflazione è già diciamo calcolata all'interno Praticamente un investimento che non copre dall'inflazione Non è un buon investimento E i ragazzi di Gimmy5 ovviamente ne sono consapevoli Quindi si fanno tutta una serie di calcoli e studi Per permettere ai tuoi soldi di rendere e quindi di guadagnare Dei rendimenti superiori all'inflazione Investimenti eh? Sì Non è che fanno cose strane con i miei soldi? Allora so quanta diffidenza ci possa essere nei confronti del mondo finanziario e delle istituzioni finanziarie E anzi proprio di questo argomento ce ne occuperemo insieme a Jacopo in una puntata successiva Però basti pensare che dietro a Gimmy5 non ci sono dei 25 anni pazzi scatenati Che investono in trading e fanno fruttare al massimo i vostri soldi Oppure speculano In realtà dietro all'app di Gimmy5 c'è una società molto strutturata Che prende il nome di Acomea Sgr Innanzitutto parto dalla società madre che ha come A Sgr Mentre Gimmy5 è una divisione all'interno che fa il salvatanano digitale Acomea Sgr che sta per società di gestione del risparmio Come diciamo altre società che esistono nel nostro settore Sono forse una delle società più regolate nell'intero sistema finanziario Noi di fatto siamo sotto l'autorità della Consob di Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro Quindi noi per effettuare questo tipo di attività dobbiamo iscriverci un albo E siamo strettamente regolamentati e osservati da questi tipi di entità Quindi già di base parti con qualcosa che è super strutturata Che deve avere determinati requisiti e che non può andare a fare delle cose strane sul mercato E soprattutto deve dotarsi all'interno di funzioni che ti permettono di fare questa attività qua Quindi abbiamo una funzione di compliance interna Abbiamo i gestori all'interno, abbiamo i sistemisti eccetera eccetera Che ti permettono quindi di avere una società forte e strutturata Uno strumento come il Gimme 5, il grande valore aggiunto non è il fatto che il denaro che io metto lì Poi dopo mi farà guadagnare tantissimi soldi Non è quello il nostro scopo Cioè noi non siamo una società o altre società che ti permettono di mettere 100 euro E fra 10 anni quei 100 euro farli diventare 20.000 euro Non è quello Quello che noi ci poniamo è darti uno strumento che ti permetta man mano Di prendere i tuoi risparmi, metterli da parte e così tu ti crei un capitale nel tempo E quel capitale lì ovviamente beneficia di un rendimento che noi andiamo a creare Grazie alla capacità della società e grazie a come è andato l'andamento del mercato Quindi la nostra promessa non è quella ovviamente di farti diventare ricco Ma è quella di dirti comincia intanto a fare qualcosa Sicuramente ti troverai fra 10 anni con un bel gruzzoletto che sicuramente non avresti da parte E molto probabilmente grazie al potere che ha l'investimento e il mercato avrai anche qualcosina in più Quindi magari io nell'arco della mia vita sarò riuscito a mettere da parte 20.000 euro E magari fra 10 anni quei 20.000 euro sono diventati 30.000 euro Quindi stiamo parlando di cifre del genere, ok? Noi andiamo a speculare, siamo una società che appunto fa risparmio Grazie poi dopo al meccanismo dell'investimento Quindi come avete capito le garanzie sono tante E come ci dice lo stesso Jacopo non stanno lì a fare trading A cercare di far fruttare il più possibile il vostro patrimonio In quanto in finanza vige la regola aurea e cioè rischio uguale a rendimento Quindi più è alto il rendimento più c'è un rischio maggiore di poter perdere i propri soldi E quando si parla di risparmio una componente fondamentale è quello di avere una certa garanzia Che il proprio patrimonio perduri nel tempo, che riesca a sopravvivere all'inflazione E ben venga anche avere un rendimento superiore all'inflazione Come vi dicevo il miglior risparmiatore è il risparmiatore consapevole Infatti A come A SGR che gestisce il salvadanaio digitale Gimmy5 E che vi fa fruttare il vostro patrimonio è praticamente un fondo di investimento E come sappiamo in finanza, nei mercati finanziari non c'è nulla di garantito Quindi non è garantito che il vostro patrimonio crescerà sempre e per sempre Questo è bene specificarlo Però è una caratteristica comune a tutte le istituzioni finanziarie E anche a voi trader indipendenti se utilizzate delle app per investire Nulla è garantito, però questo è sempre bene specificarlo Nonostante questa cosa che come vi ho detto è comune a tutto il mondo finanziario Io mi ci sto tornando bene con Gimmy5 Ormai la utilizzo da un anno E' intelligente, comoda e funziona E il mio patrimonio in questo anno è cresciuto di una cifra sufficiente Ovviamente una cosa è il risparmio e una cosa è l'investimento o il trading Come abbiamo ben visto prima grazie a Jacopo Detto ciò spero di avervi dato una infernitura generale riguardo l'applicazione che uso io di Gimmy5 E di avervi anche un po' informato riguardo il suo funzionamento Perché come vi ho detto è importante anche sapere quello su cui si sta mettendo le mani E niente, ci vediamo in prossimi video con anche nuovi video in collaborazione con Gimmy5 Dove ci daranno alcune dritte riguardo l'educazione finanziaria e il risparmio Detto ciò vi saluto, ringrazio gli abbonati che mi sostengono in questo progetto E Gimmy5, come al solito vi lascio il codice sconto ECONOMY5 per poter ottenere 5 euro di bonus una volta iscritti Alla prossima!